la maestra aspetta dai corri in fretta la campanella suona suona dai batti le mani un due tre tutti qui con te scuola divertente ciao sei pronto a guardare le immagini chi è questo questo è il cane e chi è questo questo è il gatto e chi è questo questo è il pappagallo tutti insieme sono gli animali domestici e adesso andiamo a vedere quali animali domestici ci aspettano nella scuola divertente questo è il mio cagnolino cc love e gli piace giocare con la sua macchinetta attento dai giochiamo con lui ah 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 oh fico adesso tocca a me oh ma chi sono questi fabio ciao questi sono i miei amici max e gijet e mi hanno portato la spesa dai vediamo che cosa hanno comprato il cocomero il cocomero l'ananas il limone la mela e ci sono anche il pollo e la pizza oh mi piace tantissimo la frutta a me più di tutti piace il cocomero wow 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 Max, sei così affamato? Sì, ho tanta fame! Hai sentito anche tu? Deve esserci qui vicino, Sava! Dai, troviamolo! No, qui non c'è nessuno. Ah, ma eccoti! Lui è il piccolo Sava! Oh, Sava canta molto bene! Ragazzi, fuori il tempo è bellissimo! Andiamo a fare una passeggiata! Oh, è una bellissima idea! Ma abbiamo bisogno di vestirci! Dai, guardiamo cosa c'è nella scatola! Cicillà, ti aiuto io! Grazie! Oh, ma questo è il mio vestito! Dai, te lo metto io! Pronta! E questo è un cappellino per Max! E questo è il cappellino per Hidget! Urrà! Possiamo andare! Andiamo in camion! 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 Urrà! Fantastico! Andiamo! mentre gli animali vanno al parco noi guardiamo un bel cartone animato siamo al parco giochi è mattina ed è ancora deserto ma i veicoli da lavoro devono uscire presto chi è il primo porta rossa trattore rosso con un rimorchio e nel rimorchio c'è una mucca ciao mucca stai andando alla fattoria ci vediamo la è davvero una bella giornata il semaforo è verde puoi passare siamo arrivati e la nostra amica mucca può saltare giù qui sarai felice ehi hai un bel campanello il trattore rosso torna al garage ciao trattore rosso e dalla porta verde esce un trattore verde è un grande rimorchio verde con la sponda ribaltabile anche lui va alla fattoria ma fare cosa le balle di fieno così le portiamo alla fattoria per nutrire gli animali con il fieno stiamo attraversando il parco giochi guardate la pista circolare verticale semaforo verde giallo rosso ma no per il trattore che viene dall'altra strada ciao mucca ecco il fieno che piace a te torniamo al garage dalla porta gialla esce il carrello elevatore chiamato anche muletto davanti a due forche per sollevare le balle di fieno semaforo verde giallo rosso noi ci fermiamo e sull'altra strada passa la polizia andiamo una due tre quattro cinque ecco il fieno per la mucca buon appetito il carrello elevatore torna in garage ma sto scendo dalla porta blu un camion blu con la cisterna ma non è una cisterna come le altre cosa c'è scritto milk che vuol dire latte questo camion trasporta il latte e sta andando alla fattoria la mucca ha mangiato e ruminato fieno tutto il giorno e ora ha molto latte e non vede l'ora di cederlo al camion grazie mucca per il tuo latte sarà lavorato per poter essere imbottigliato e per produrre formaggi da questa parte da questa parte da questa parte urrà siamo arrivati che cosa c'è qui di interessante qui c'è uno scivolo e qui la vasca con le palline cicilab puoi entrarci uno due tre che bello bambini venite con me venite qui eh heee oh che fico anch'io voglio guarda guarda di quanti colori diversi sono le palline blu, rosso, verde, giallo. Quanto mi piace nuotare nella vasca con le palline! Ai miei animali è piaciuto molto! E tu? Hai degli animali? Scrivilo nei commenti! Ciao!